Il giorno e la storia Oggi è il 29 marzo 2004, sette paesi dell'Est entrano nella Nato 1971, il tenente Calle giudicato colpevole del massacro di Milai 1932, muore Filippo Turati Commenta il fatto del giorno Nunzia Vallini, direttore del giornale di Brescia Oggi ho scelto di parlare di Carlo Urbani, l'eroe in camice bianco che scoprì la polmonite atipica SARS